Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 in direzione sud, rallentamenti e code a tratti per traffico tra Barberino del Mugello e Calenzano e tra Calenzano e Incisa Reggello. Per perdita di carico, rallentamenti ancora una volta verso sud tra Incisa Reggello e Valdarno. In FIPD per traffico troviamo code in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Nella minoltre che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Moltiamo pagina per il traffico ferroviario, per un guasto temporaneo, gli impianti di circolazione tra Serravalle Pistoiese e Monte Catini Terme, due treni regionali hanno subito ritardi, compresi tra gli 11 e i 20 minuti. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Meropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!